Andare via dalla Champions penso che a ognuno di noi è rimasto qualcosa, quel sogno che magari avevamo lì vicino che ci è sfuggito ci ha lasciato qualcosa dentro. A Napoli abbiamo dimostrato che questa squadra le partite più difficili le gioca sempre al massimo. Il fatto che poi la trentina si è riuscita a vincere con una squadra abbastanza rimaneggiata è un'ulteriore conferma delle vostre qualità? Sì, rimaneggiata di che? Noi abbiamo sempre lavorato al massimo nel campo, l'allenamento abbiamo dato sempre il massimo. Poi in campo in queste ultime gare abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, un grande gruppo che anche se magari mancano dei giocatori importanti questa squadra riesce a far vedere un bel calcio. Senti Mario, guardando la classifica a cosa state puntando? Europa League oppure c'è ancora vivo il sogno del quarto posto? Adesso rimangono quelle partite che rimangono. Puntare non si punta a niente anche perché tutte le partite sono difficili e tutte le partite sono diverse. Questo campionato, qualsiasi squadra che affronti è una partita difficile, quindi da qui alla fine bisogna andare passo per passo. Adesso abbiamo il Genova che sarà molto difficile anche se giochiamo a casa, anche perché abbiamo perso troppe partite in casa. Quindi dobbiamo stare attenti per quelle partite che rimangono. Senti Mario, io ti volevo chiedere una cosa sullo spogliatello, anche perché dopo la partita con il Milan c'è stato il silenzio stampa e così via. Il medico agli altri, quindi alle spiste, alle spiste, alla sfida con il Milan stessa. Voi nello spogliatello non avete nessuna? Come vivete questo momento? Purtroppo adesso in quest'ultimo periodo non soltanto noi ma anche altre squadre vengono penalizzate. Purtroppo non puoi fare nulla, quindi bisogna guardare avanti e continuare anche perché se perdi un po' di voglia, perdi il passo a questo campionato ci possiamo ritrovare molto più sotto e poi è dura risalire. Quindi rimanere indietro a pensare a quelle cose che magari non ci hanno dato o ci hanno tolto può essere un grande sbaglio. Grazie. Se hai fatto il pericato in questo, si dice sempre se Santara se ne può andare, poi in realtà quando sei a disposizione i giochi cosi senti? Io ho sempre in tutti gli anni problemi, però penso che durante un lungo periodo ho giocato e penso di aver dato tanto a questa squadra, anche su partite importanti. Poi sono uno che lavora sempre e non si guarda indietro, quindi sono giocatore della Fiorentina, quindi è il mio lavoro e lo faccio molto volentieri. Volevo chiedere a proposito, visto che anche prima dicevi che qualche volta sono spesso sei fuori, quanto ti ha pesato attimane nel periodo decisivo con la doppia sfida di Champions che non hai più giocato? Purtroppo mi capitano spesso a me queste cose, mi dispiace tanto anche perché arrivano sempre quando sto bene, quando arrivo ad essere al top. Purtroppo ho questa cosa e spero prima o poi finisca perché comunque danneggia molto la mia carriera. Su quanto riguarda il mercato io per adesso non so nulla, non so cosa sarà dopo giugno. Adesso spero di finire questo campionato bene, questi due mesi che rimangono, non so se sono due mesi, di poterli fare tutti i due mesi e poi alla fine si vedrà cosa succederà con la società, cosa vuole fare la società. Poi questo si vedrà alla fine. Poi per quanto riguarda il mio compagno, è un grande giocatore, si vede che ha delle grandi qualità. Il campionato italiano è molto difficile, fisicamente ancora gli manca qualcosa, però sul lato tecnico non si può discutere perché comunque lo vediamo ogni giorno nel fare allenamento. E' un grande giocatore. E' un grande giocatore. Prandelli ha sempre successo per i tuoi loghi, sei generoso, sei un giocatore importante per la squadra, quindi Prandelli straverde per te in anni. Penso che perdere Prandelli non soltanto per noi ma per la città, per la società sarebbe un brutto colpo. Comunque ha dato tanto a questa città, a questa società, a noi, penso che ognuno di noi ha imparato tanto con il mister, quindi spero che non sia così. Ho già detto prima, penso che quelle partite che rimangono sono tutte difficili, noi dobbiamo ogni partita lottare per far sì che il risultato avvenga o giocando bene o per la forza della squadra fisicamente. Purtroppo magari quando giochi bene, 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 non riesci mai a prendere risultati positivi, quindi magari fare un po' come abbiamo fatto a Napoli, non molando mai, correndo su ogni palla, è quello che ti dà poi il risultato.